A volte le parole non bastano e allora servono i colori, le forme, le note e le emozioni. Emozionalmente è nato dalla voglia, a mia e di Chiara, di poter unire le nostre conoscenze e competenze nell'ambito dell'equitazione e non solo. Abbiamo voluto creare questo evento per portare una maggiore consapevolezza alle persone che siano proprietari di cavalli, che appassionati di cavalli o che vogliono relazionarsi con il cavallo. I cavalli sanno tutto di noi fin dal primo momento che entriamo nel loro spazio. Sentire il respiro del cavallo che si unisce con il nostro respiro. I cavalli sono dei grandi maestri. Sono qui per accoglierci, per sostenerci. Lascia andare le tensioni. Lascia andare tutto ciò che non ci serve più. Immaginate di avere una bolla attorno a voi per mantenere anche un minimo di spazio per essere liberi, di muovervi vicino al cavallo. Cosa provo quando sono vicino al cavallo? Ricordi, immagini, sensazioni? Con lei abbracciando, ad un certo punto mi sono proprio venute le lacrime agli occhi, le sento ancora qui, quindi io sono poi in un altro pianeta in questo momento. Nonostante la mia paura, che sicuramente hanno avvertito, però c'è, mi ha emozionato. Stavo bene. Mi lascio accarezzare, rassicuro la mia bambina. stavo bene. mi lascio accarezzare, rassicurare, 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 rassicurare. Mi lascio accarezzare, rassicurare, rassicurare, rassicurare. Grazie a tutti. La mia paura, che ci sono messi.